Buongiorno a tutti, quando scrissi il volume I Generali di Mussolini per ogni biografia di generali avevo dato l'inizio mettendo una citazione di un proprio collega, di un superiore che potesse in qualche modo rappresentare in maniera molto concisa lo stesso personaggio. Per quanto riguarda il generale Nicolangelo Carnimeo non avevo trovato una descrizione, una frase, un commento adeguato che potesse in qualche modo descriverlo e quindi trovai mi pare su internet, ho passato i vari anni, di Arthur James Berker questa frase Caren costituì il supremo sforzo bellico-italiano e ciò che fecero le truppe di Carnimeo non fu probabilmente mai superato nella storia militare italiana. Ebbene questa frase che in qualche modo mi sembrava la più adatta, l'unica che in qualche modo potesse essere riferibile al generale Carnimeo era tratta appunto da questo Berker che in realtà non sapevo neanche chi fosse all'epoca, quindi in qualche modo ero cercato di andarlo a cercare, avevo capito che non era neanche un generale, era un colonnello britannico che in qualche modo aveva avuto degli incarichi nello scacchiere tra il Medio Oriente e l'Africa orientale italiana. Ebbene ieri in un mercatino ho trovato niente proprio a di meno che questo volume, Eritrea 1941, proprio di Berker. E quindi che è successo? L'ho comprato, non fosse altro perché mi sembrava interessante di parlarvi, visto e consigliato che avevo utilizzato questa citazione anni fa e che in qualche modo potesse introdurci un nuovo spiraglio di analisi, avendo finito la, ahimè, diciamo un po' grottesca narrazione di Canevari e che in qualche modo potesse essere in alternanza rispetto alle letture che stiamo facendo di Cavallero. Ebbene quindi questo volume secondo me è molto interessante nella descrizione di come un avversario dell'Italia potesse in qualche modo andare a tracciare in maniera più o meno obiettiva la realtà dei fatti. Io vi leggerei intanto la seconda di copertina. Poi piano piano magari adesso vedo quanto viene la cosa e poi magari lo ricolleghiamo ad un altro video. Cammin facendo vediamo se può essere un video solo o più video. Allora Eritrea 1941. Allora questo è un volume scritto in lingua inglese nel 66, poi proposto per Baldini e Castoldi nel 68 nella traduzione italiana e poi per il club degli editori di questa edizione nel 69 con la prefazione di Emilio Faldella. Ecco Emilio Faldella che è appunto un importante generale italiano che in qualche modo ha avuto una sua alterna esperienza, un'esperienza molto variegata, storico militare, autore di numerosi saggi di importante rilevanza, ebbene ci offre un'interpretazione aggiuntiva per integrare ciò che Barker vuole esprimere. Quindi abbiamo una descrizione dello stesso autore britannico ma allo stesso tempo ne abbiamo un commento di un importante esponente italiano. Allora partiamo dalla seconda decopertina. Eritrea 1941. All'entrata in guerra dell'Italia nel giugno 1940, dopo la capitolazione della Francia, la minaccia sul Medio Oriente divenne un fatto concreto ed immediato per la presenza in Africa orientale di ingenti forze italiane. La situazione assunse aspetti particolarmente critici per il Sudan. Tuttavia gli italiani inspiegabilmente lasciarono ogni iniziativa in mano agli inglesi che nel gennaio del 1941, dopo sei mesi di intensa attività da parte delle esigue forze difensive del generale Platt, lungo la frontiera sudanese, confinante con l'Africa orientale italiana, marciarono verso l'Eritrea. Il successo finale della campagna di guerra britannica determinò il crollo dell'impero coloniale italiano. Il colonnello Barker, in Eritrea 1941, fa la cronaca e l'analisi critica di questa campagna. Ci presenta un resoconto dettagliato dell'assedio di Keren, dove le forze inglesi e italiane si scontrarono dando origini a una delle più sanguinose e decisive battaglie della campagna. Esperti e studiosi della materia sono unanimi nel riconoscere la sprezza del combattimento, ma c'è chi afferma che Keren fu teatro di una battaglia più sanguinosa di quella di Monte Cassino, sebbene lo spiegamento di forze fosse inferiore. Fu lì che il nerbo della resistenza italiana in Africa orientale venne spezzato. Barker illustra le varie fasi della campagna con obiettività esemplare, dando risalto ai lati più cruenti e interessanti, con chiarezza professionale e acuto spirito di osservazione. Il volume è preceduto da una prefazione del genere Platt, comandante in capo delle forze britanniche e alleato operanti dal Sudan nel 1940-41 e da una presentazione al lettore italiano del generale Emilio Faldella, che rettifica alcuni punti di vista dell'autore inglese. Quindi secondo me acquista questa pubblicazione una doppia valenza, come dicevo, perché ci permette di andare a sviscerare un po' anche la posizione italiana in contrapposizione alla originale versione britannica. Allora, Lindelhardt, il noto scrittore inglese, scelse il titolo The Other Side of the Hill, l'altro pendio della collina pubblicato da Rizzoli col titolo I generali tedeschi narrano, che mi pare di avere da queste, aspettate, no non ce l'ho, ce l'ho qualche altra, vabbè, non ce l'ho, per un interessante libro nel quale mediante quei siti posti generali tedeschi prigionieri ricostituì gli avvenimenti della seconda guerra mondiale dal punto di vista germanico e quindi sotto aspetti fino allora ignoti agli inglesi. Diciamo che, io faccio un commento, Lindelhardt utilizzò, secondo me, le testimonianze dei tedeschi anche enfatizzando troppo i presunti meriti tedeschi più che altro per andare a giustificare la correttezza delle posizioni di Lindelhardt, nel senso che utilizzò il fatto che i tedeschi potessero aver perso ma allo stesso tempo avessero espresso delle posizioni inizialmente determinanti per un po' incensare gli inglesi, quindi è un po' un gioco perverso che Lindelhardt purtroppo ha compiuto in più momenti della sua esperienza militare prima e storica poi. Si ispirò a una frase di Wellington, il vincente di Napoleone, ho passato tutta la mia vita a cercare di indovinare quel che c'era dall'altra parte della collina e cioè quanto avveniva nel campo avversario e si agitava nella mente dei comandanti nemici. È naturale che durante lo sviluppo delle operazioni comandanti e gregari, non potendo vedere al di là della collina, abbiano una visione unilaterale degli avvenimenti dei quali sono protagonisti o partecipi e che poi, narrandoli, non possano prescindere da quella visione per cui giudicano sovente con scarsa obiettività le azioni degli avversari, mentre esaltano eccessivamente quelle delle proprie truppe. Anche il colonnello Barker non ha potuto modificare certe impressioni subite durante la campagna del mio 141 in Eritrea, sebbene dimostri notevole obiettività nel riconoscimento del valore dei combattenti italiani, riconoscimento sovente esplicito e talvolta implicito nella descrizione delle gravissime difficoltà che le forze britanniche dovettero superare, specialmente nei 55 giorni della battaglia di Keren. L'autore non è altrettanto obiettivo quando tratta della condotta dell'operazione da parte italiana, sebbene essa non sia stata immune da Mende. Rivela una incompleta conoscenza e sovente una errata valutazione delle effettive possibilità di un esercito eterogeneo, numericamente considerevole, ma deficiente per mezzi, abbandonato a se stesso perché completamente isolato dalla madrepatria, senza alcuna possibilità di rifornimenti e perciò destinato inesorabilmente a un fatale esaurimento eppur impegnato a difendere 8.700 km di frontiera e un vastissimo territorio nel quale erano alimentati dallo stesso nemico virulenti focolai di ribellione. Prima di esaminare alcune opinioni dell'autore e di formulare a riguardo osservazioni, è opportuno ricordare che l'Italia entrò in guerra appena quattro anni dopo l'ingresso delle truppe italiane in Addis Abeba. In tal breve spazio di tempo, nel vasto territorio dell'Etiopia, le opere di pace avevano avuto la precedenza assorbendo mano d'opera, mezzi e denaro. L'organizzazione delle forze armate aveva invece fatto scarsi progressi, poiché per il momento bastava fossero idonee al compito di presidiare le principali località e a svolgere operazioni di controguerriglia. Per costituzione e armamento non erano certamente idonee a combattere contro un esercito meccanizzato, al quale, suprema ironia, erano state procurate le massime possibilità di azione con la costruzione di una rete stradale che da sola testimonia ancora oggi della grande opera di civiltà compiuta in tanto breve tempo, rete stradale che alle forze italiane di tipo coloniale non meccanizzate diede vantaggi limitatissimi, mentre ne diede in enormi alle divisioni meccanizzate avversarie. Dalla serie, gli abbiamo fatto pure le strade e però non ci sono servite a niente. Se il territorio etiopico fosse stato ancora percorso soltanto dalle mulattiere e dalle carre recce del tempo della campagna 1935-36, è assai dubbio che i britannici l'avrebbero potuto conquistare. Il maresciallo Graziani prima e poi il Duca d'Aosta avevano formulato proposte per un'organizzazione delle forze armate adeguata alle esigenze di una eventuale guerra mondiale, ma a Roma non era mai stato preso seriamente in esame il problema della guerra in Africa, anche perché non si riteneva imminente un conflitto contro la Gran Bretagna. Fino al giugno 1940 il maresciallo Badoglio escluse l'eventualità di effettuare un'offensiva in Egitto e sostenne che le forze armate in Africa orientale avevano soltanto il compio di difendere il territorio. Ne risultò che tanto la Libia quanto l'imperio non furono attrezzati per effettuare offensiva a largo raggio e tantomeno a collegare attraverso il Sudan e l'Egitto la Libia all'Eritrea, attuando ciò che il Barker sintetizza nella frase. Se gli italiani avessero agito con decisione sarebbero riusciti senza dubbio in breve tempo a bloccare il canale di Suez. Non sarebbe certamente stato possibile improvvisare senza preparazione adeguata una simile impresa allo scoppio della guerra, impresa che, d'altra parte, appare attuabile soltanto se si prescinde del tutto dalle distanze, dall'antura del terreno e dalle comunicazioni esistenti, e cioè rimanendo all'elà al di fuori della realtà. Da Cassala al Cairo corrono 2256 km, 400 di carovaniera fino ad Atbara, 620 di ferrovia per voa di Alfa, 344 di navigazione sul Nilo e infine 892 di ferrovie da Scella al Cairo. L'autore sostiene che, data la scarsa consistenza delle forze britanniche dislocate nel Sudan durante l'estate del 1940, avremmo potuto giungere facilmente almeno ad Atbara o a Khartoum. Egli stesso offre però elementi che comprovano quanto tali operazioni non fossero attuabili nell'estate del 1940. Il 5 settembre 1940 la quinta divisione indiana sbarcò a porto Sudan. Il periodo nel quale avremmo avuto di fronte forze esigue era perciò limitato ai mesi da giugno a settembre. Orbene, quel periodo è caratterizzato dalle grandi piogge e l'autore stesso scrive che nel Sudan, durante le grandi piogge, le piste che servono da strade sono sovente inutilizzabili e certe zone del deserto dopo un temporale restano chiuse per diversi giorni. Il comando italiano sarebbe stato ben temerario se avesse tentato di effettuare durante la stagione delle piogge un'offensiva per occupare Atbara o Khartoum, ambedue, a 400 km da Kassala. Il vero nemico durante l'estate del 1940 non era rappresentato dalle esigue forze britanniche del Sudan, ma dal deserto, dalle distanze e dalle piogge. È vero che, come l'autore osserva, in quell'estate del 1940 la pioggia cadde in misura eccezionalmente inferiore al normale e che il terreno non era saturo d'acqua come in passato, ma è anche ammissibile che il comando italiano non potesse prevedere in anticipo che la stagione sarebbe stata eccezionalmente favorevole e decide di marciare con forti colonne attraverso il deserto in base all'avventata supposizione che le piogge sarebbero cadute, una volta tanto, in quantità minore che in tutti gli anni precedenti. Il seno del poi sono piene le fosse. Malgrado il pericolo di rimanere impantanati, il problema grave non era tanto quello di giungere ad Atbara o a Khartoum, ma di rimanervi e di resistere a un'offensiva nemica per le enormi difficoltà logistiche, quelle che l'autore dice amministrative, tanto più che i britannici potevano concentrare truppe contro Atbara valendosi delle due ferrovie da Wadi Alfa e da Porto Sudan. In tutto il territorio etiopico esistevano soltanto 6.280 autocarri, compresi 1.800 di requisizione, cifre in continua diminuzione per l'usura e assai limitate erano le disponibilità di carburanti e soprattutto di pneumatici. Perché si possa dare un valore positivo a quella cifra si consideri che nell'estate del mio 142 l'armata italo-tedesca in Africa settentrionale disponeva di circa 12.000 autocarri. Occupando il noto ferroviario di Atbara non avremmo impedito la radunata delle forze britanniche che invasero l'Eritrea, poiché esse sbarcarono per la massima parte a Porto Sudan. Sarebbe perciò stato necessario occupare anche Porto Sudan, che dista da Carora, sul confine con l'Eritrea, 200 chilometri. Ma per far giungere truppe rifornimenti a Carora da Keren, località più vicina, bisognava percorrere 330 chilometri, di cui 177 di pista camionabile, usufruibile soltanto nella stagione secca e di 155 chilometri di carovaniera. Sarebbe stato quindi possibile effettuare un'offensiva verso Porto Sudan soltanto nel mese di ottobre, quando da più di un mese era sbarcata in quel porto la 5ª divisione anglo-indiana. L'autore esalta le azioni di disturbo effettuate da reparti motorizzati britannico-sudanesi contro le truppe italiane intorno a Cassala. Ma le incursioni delle bande del capitano Ghiè a nord di Cassala e della colonna del colonnello Rolle verso Rosier comprovano che le forze italiane erano anch'esse attive e intraprendenti. Il Barker non riconosce l'opportunità dell'offensiva della Somalia italiana effettuata nel mese di agosto che ebbe invece lo scopo preciso di evitare che forze britanniche, sbarcando a Berbera, potessero puntare su Arrar e ottenere altresì il risultato di ridurre di molto la frontiera da guardare. Ammette che la conquista della Somalia britannica diede un grave colpo al prestigio inglese e possiamo concordare con lui che il successo non fu completo perché non fu impedito l'imbarco delle forze britanniche. Il colonnello Barker dedica 186 pagine alla campagna per la conquista dell'Eritrea. Sono pagine assai interessanti che se mettono in evidenza il valore delle truppe italiane meritano alcune precisazioni. Facciamo anzitutto il punto sulla situazione. Dall'ottobre 1940 in poi il generale Platt, comandante britannico, vedeva di giorno in giorno aumentare le forze a sua disposizione e sapeva di poter contare su un continuo afflusso di rifornimenti. Il comando italiano conosceva l'entità e soprattutto la qualità delle forze che si radunavano nel Sudan e nel Kenya e sapeva di poter contare esclusivamente sulle forze e sui mezzi che aveva a disposizione e che in un periodo più o meno lungo si sarebbero esauriti. Da un lato vi erano truppe in ottime condizioni per qualità di combattenti, indiani, guerrieri per tradizione, inglesi di classi giovani, tutti con armamento eccellente. Dall'altro truppe coloniali reclutate senza battere alla qualità, in gran parte nelle regioni conquistate da pochi anni e quindi non di sicura fedeltà, come i valorosi e fedeli eritrei e nazionali per la quasi tutta età operai, coloni di classi anziane reclutati per la guerra. Per quanto riguarda l'armamento non occorre dilungarci 63 carri armati di scarsa efficienza, circa 400 cannoni per la difesa di tutto il territorio, fucili in gran parte antiquati, mancanza di armi contro carro efficaci e di cannoni contraerei. Dei 325 aerei inizialmente disponibili, molti erano ormai andati perduti o erano inutilizzati e soltanto 71 velivoli erano stati inviati dall'Italia per via aerea. Nel scrittore Eritreo, all'inizio dell'offensiva britannica, erano disponibili in totale, comprese le riserve, 45.750 uomini, 36 carri armati, 174 cannoni, 57 aerei, di cui 37 bombardieri e 20 caccia. I britannici disponevano delle divisioni anglo-indiane quarta e quinta, ciascuna di tre brigate, reggimenti, con tre battaglioni ciascuna e tre reggimenti di artiglieria per divisione, oltre ai carristi e a una specialità speciale formazione meccanizzata Gazelle Force. Ciascuna divisione contava 15.000 uomini. L'autore afferma che l'aeronautica italiana era superiore e le attribuisce una disponibilità nel settore Eritreo di 160 aerei, ma poi si contraddice asserendo che fin dalla prima delle battaglie di Agordat e Barentou, cioè dai primi giorni dell'offensiva, la Royal Air Force fossedeva il dominio del cielo. Il Barker sostiene che in tutti gli scontri le forze italiane erano superiori e anche ben trincerate, vede cioè trincee dappertutto, mentre se vi furono battaglie combattute in campo aperto furono proprio quelle di Barentou e di Agordat e anche sui monti di Keren. I primi apprestamenti difensivi furono iniziati quando già le avanguardie inglesi erano in vista. Potremmo confutare dettagliatamente le sue affermazioni, ma ci ripeteremmo. La decisione di non accettare battaglia nel basso piano e di ritirarsi sulle alture fu saggia, ma in ritardo col quale fu approvata a Roma ne rese tardiva l'esecuzione. Ne risultò che la ritirata fu iniziata il 18 gennaio 1941, quando ormai tutte le forze britanniche erano pronte, compresa la quarta divisione anglo-indiana sbarcata fra il 6 e il 14 gennaio. Il genere Platt poté perciò inseguire subito, ottenendo notevoli successi ad Agordat e Barentou, successi che non potevano mancare poiché i reparti motorizzati britannici erano in grado di percorrere anche 150 km al giorno, mentre le divisioni coloniali ripiegavano a piedi. Il Barker esalta eccessivamente i meriti dei comandi e delle truppe britanniche, senza tener conto delle effettive condizioni delle opposte forze e del fatto che da parte italiana furono commessi errori di comando e nella condotta delle operazioni. Allora io mi fermerei qua, così da poter in qualche modo suddividere la nostra analisi di questo volume in tre parti. Abbiamo fatto questa prima parte introduttiva e la lettura di metà circa delle annotazioni di Faldella, nella prossima faremo la conclusione delle annotazioni di Faldella e nel terzo video leggeremo la prefazione del generale Platt e la prefazione e magari anche il prologo se c'è tempo dello stesso Barker. Quindi mi sembra che possiamo impostare con serenità una riflessione su questo testo che per quanto possibile può essere di grande interesse nella nostra analisi. Perché? Perché ci pone ancora una volta di fronte a una doppia analisi, una doppia analisi in cui abbiamo la versione britannica ma allo stesso tempo temperata da un commento postumo di un comandante italiano, così da rendere più fruibile anche più dinamica la narrazione e non limitandoci soltanto a una fonte univoca che potremmo definire come verità ineluttabile. Cioè in questo caso abbiamo anche una sorta di contraddittorio all'interno del medesimo volume. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione che rivolgete ai miei video, vi invito oltre ovviamente a seguire le prossime puntate del canale ma nello specifico di questa narrazione, mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!